Questa è una squadra giovane che ancora non ha acquisito quella sicurezza e quella tranquillità di giocare le partite quindi si è visto che nei primi 2-7 eravamo... Bisogna lavorare ancora molto? Bisogna lavorare ancora, bisogna vedere che nel 3-7 quando abbiamo giocato per un attimino più di tranquillità diciamo abbiamo un po' abbassato il livello di tensione negativa, siamo riusciti a giocare quindi niente, dobbiamo ogni tanto fare i costi con questa caratteristica di questa squadra La squadra è un gruppo di ragazze che durante la settimana lavorano bene e come ripeto ci sono degli aspetti sui quali non è facile incidere i tempi brevissimi bisogna continuare a lavorare e questo loro lo fanno e sono convinto che man mano che andremo avanti le cose saranno migliori per noi oggi volevamo godercela un po' di più questa partita noi sappiamo che da qui si esce, è più facile uscire con una squadra ma goderci una partita perdendo avendo dato tutto l'abbiamo fatto solo nel 3-7 per questo purtroppo dobbiamo prendere altro di questo, continuare comunque ad andare avanti grazie grazie grazie